Ci troviamo nell'area logistica numero 9. Abbiamo le maestranze che si stanno occupando di allestire questo campo base dove sorgeranno tutti quanti i servizi necessari per avviare i cantieri. Alle nostre spalle sorgerà quello che sarà il futuro varco di Ponente, un gate per l'accesso al porto dedicato ai mezzi nazionali e internazionali. Quest'opera è ricompresa in un grande layout oggettuale che ha l'obiettivo di dare una nuova configurazione alle aree del bacino portuali delle Grazie di San Pierd'Arena e del bacino di Cornigliano. Il costo complessivo di queste opere è di 130 milioni di euro. I tempi previsti per l'attuazione sono tre anni. Terminata la progettazione, da qui l'avvio degli importanti lavori per il porto e per la città di Genova. Grazie. 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 Grazie.